Ciao ragazzi, benvenuti al primo video. Oggi giochiamo a un nuovo gioco che è in grado popolare su internet. Quando non prende c'è da questo gioco, te lo conoscete. Allora, giochiamo a questo gioco. Allora, io e io ho donato questo gioco, se non riuscito a fare questi numeri che state vendo qua, 12, 8, 8.000 polizioni. No! Perché non riesco mai? Perché il gioco si deve incazzare pure, si fa incazzare. Si fa incazzare. Allora ragazzi, questo gioco va veramente incazzare. Vedete le commenti, se riuscite a arrivare 8 milioni e mezzo di livello. Un milione a trattarlo. Se riuscite a superare il record, il record. Ma che? Ma che dinosauro è? Ma che dinosauro è? Ma che dinosauro è? Proprio una merda proprio. Un pollicione mi piace. Non tutto mi piace, ma con un pollicione tutto non è. sembra noioso. E' mai! E' batta! E' una stupidaggine. E' complicato. Ma! No! E' poco! Ma io non lo so, mettiamola di... Una scimmia balla, una scimmia canta. Non fa il graffitto, non fa il graffitto, non fa il graffitto, non fa il braio, non faccio il braio. Wow! Sono molto molto bravo a toccare questo gioco. Sto riuscendo a far superare, a superarmi, a farmi incazzarmi questo. Questo mi chiamo al gioco a farmi incazzare. Ragazzi, questi giochi sono molto molto carini. Beh, i bambini imparano a incazzarti, perché imparano a tre anni incazzarti, proprio. Perché a me è complicato. Perché domani non perdete il secondo video. Non le sopprete, non le perdete. Ma! Stavo guardando quanto... Quante minuti era. L'ultimo, l'ultimo che mi sta venendo a venire. Una cazzata, proprio. Questo gioco sembra una cazzata. Sembra... Sembra facile, facile. Sembra facile ad attrattare. Io cerco di non fare tanti livelli. Arrivare per i milioni. E va a spaiare. E basta ora. E va bene, va. La fa apposta, ragazzi. Quando vuoi giocare a vostre cose, mi fanno incazzare veramente questo gioco. Vediamo quando ci arrivo. Wow! Wow! Ti arriverò 12 Di stupio 12 milioni 400 Possiamo fare dei record del mondo. Wow, ragazzi. State vedendo quanti mi sto superando. Wow! Wow! Sta cambiando il livello. Wow! Sto arrivando a 2 milioni e 400 Non toccate quelli gli animaletti. Wow! Non toccate gli animaletti. Non li toccate. Tempo è più veloce. Wow! Ma tu è un bravo a toccare alla fine. Sono veramente bravo. No! Va bene! Allora questo gioco può passare così ci vediamo al prossimo video. Può passatelo così e ci vediamo al prossimo video. E non perdete e non perdete domani secondo video. E mettete tanti pollicioni su se è il mio canale e ci vediamo al prossimo video. Al prossimo video. e non perdete e non perdete gli stimi al mio canale. Ci vediamo a domani perché c'è una soppresa molto speciale. Ci vediamo a domani!